Colito ulcerosa è una malattia infiammatoria cronica intestinale insieme alla malattia di Crohn. Si stima che in Italia ci siano oltre 160 mila pazienti affetti e più di 4 mila nuove diagnosi all'anno. Generalmente insorge in età giovanile dai 15 ai 30 anni. I sintomi più classici sono il sanguinamento rettale, la diarrea, la stanchezza, dolore addominale e l'urgenza evacuativa molto importante perché impatta notevolmente sulla qualità di vita dei pazienti. Una volta riportati i sintomi il paziente si reca dal medico che ha pronta ai principali esami del sangue ed esami delle feci come la calprotectina fecale e se c'è indicazione si sottopone a colonoscopia con le biopsie che permette di fare diagnosi di colito ulcerosa. Mirichizumab è il primo farmaco anti subunità P19 dell'interlochina 23 che è stato approvato per il trattamento della colito ulcerosa moderata grave e quindi è il primo farmaco della classe che possiamo utilizzare per la gestione di questa tipologia di pazienti. È un farmaco innovativo perché agisce sulla differenziazione dei linfociti T, agisce in modo rapido, in modo efficace e soprattutto anche andando a intervenire su quei sintomi come la diarrea e il sangue come come tanti altri farmaci ma anche l'urgenza evacuativa che impatta notevolmente sulla qualità di vita dei pazienti con un ottimo profilo di sicurezza. È un farmaco che può essere utilizzato sia in prima linea, prima linea delle terapie avanzate dopo il fallimento o l'intolleranza alle terapie tradizionali sia anche in seconda linea. Il mio modo di vedere è che prima si usa e meglio è o in prima linea in quei soggetti in cui è permesso usarlo, ad esempio soggetti fragili visto l'efficacia e il profilo di sicurezza o in seconda linea magari dopo il fallimento di un biosimilare probabilmente è uno delle posizionamenti migliori su cui bisognerebbe iniziare mirichizzo ma in un paziente affetto da colitucce rosa.